Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde. Oggi parleremo dell'argomento del giorno in missione ruolo 2021-2022. Diamo risposta ad alcune domande giunte in redazione. Il Ministero quando darà comunicazione al condigente delle missioni ruolo? Oggi 7 luglio 2021 i sindacati sono convocati per le ore 16 per conoscere le istruzioni operative delle missioni ruolo 2021-2022. In tale contesto verrà comunicato il contingente dei posti destinati alle prossime missioni ruolo e tali posti saranno poi suddivisi per regioni, province, ordini di scuola e classi di concorso. Seconda domanda. Quando saranno le missioni ruolo? Quali posti sarà possibile scegliere come sede definitiva per il ruolo? Allora, se l'aspirante a ruolo è inserito in una gradatoria di merito GM 2016 oppure GM 2018 oppure se l'aspirante è inserito in GAE, entro il 31 luglio 2021 dovranno essere espletate le procedure informatizzate su istanze online e saranno disposte d'ufficio le nomine in ruolo. Nella seconda fase della procedura informatizzata di stanze online saranno disponibili tutte le sedi in organico dell'autonomia, residuate dalla mobilità 2021-2022, dove l'aspirante a ruolo potrà indicarle secondo un ordine di preferenza. Terza domanda. Gli aspiranti a ruolo dalle GPS prima fascia con tre annualità di servizio, quando potranno avere convocazione per la scelta della sede e su quali posti? Nel caso delle missioni in ruolo dalle gradatori GPS prima fascia bisognerà attendere la conclusione delle procedure di assunzione dalle GM 2016 o in subordine GM 2018 e dalle GAE. Quindi verso fine di luglio i posti messi a disposizione per le GPS prima fascia saranno quelli residuati da tutte le procedure precedenti. Quindi dalle GPS di prima fascia se ci sarà una convocazione, cioè se si verrà convocati da questi gradatori, questo avverrà sicuramente nel mese di agosto. Speriamo che queste risposte alle domande inviate in relazione siano state utili per i nostri lettori. Continuate a seguirci sui nostri canali social, facebook, youtube e sul nostro sito www.tecnicascola.it perché proprio sulle missioni in ruolo parleremo moltissimo in questi giorni visto che si avvieranno le procedure proprio per tale missione. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.